Rendi unica la tua Pasqua. Dove? Alla frutteria le delizie dei fratelli Fera, con arrivi giornalieri di prodotti sempre freschi e di qualità. Varietà di verdura accuratamente selezionata ed anche ripulita. Assaggia la bontà della frutta locale ed esotica. Gusta il nostro appetitoso antipasto tipico calabrese, con formaggi vari, suino nero di Calabria e gustosi insaccati tutti rigorosamente caserecci. E da bere? Scegli fra la birra artigianale calabrese e una vasta varietà di vini locali. Inoltre cestini regalo con prodotti tipici a tua scelta. E per rendere dolce il tuo palato, regalati le uova di Pasqua artigianali della pregiata ditta Cola Volpe. Frutteria le delizie dei fratelli Fera e metti sulla tua tavola tutto il buono che la terra di Calabria può offrire.